ciao ragazzi e benvenuti dunque quest'oggi sono come vedete ai coffee studios quindi da francesco caprara dato che vedete anche un daniele fasciani per della manutenzione come dicevo ad uno dei miei due ampli in particolare al brian mai custom perché sentivo degli scricchioli sulle note lunghe quando andava in feedback pensavo fossero le finali da cambiare invece poi da test che ho fatto di servire solo una bella suonata ad altissimi volumi quindi senza attenuatore e probabilmente c'era dell'ossido sugli zoccoletti delle valvole o altro insomma veramente una stupidaggine adesso vi dirò qualcosa che qualcuno di voi sicuramente saprà altri rimarranno sconvolti i miei due ampi sono circa del 2005 2006 le valvole sono ancora quelle originali quindi abbiamo valvole su che hanno circa 15 anni e poco più sono stati sempre suonati al massimo in saturazione hanno preso umidità acqua pioggia però sono stati tenuti bene quindi dei corretti spostamenti insomma con le dovute precauzioni detto ciò per non buttare la giornata quando ho suonato gli ampli al massimo senza attenuatori ho mandato in rec l'iphone quindi se vi fa piacere gustatemi un po di ac 30 al massimo senza attenuatori detto ciò sono sordo quindi vabbè buona visione e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.